È un impegno a tutti gli effetti e noi giocheremo con lo stesso tipo di mentalità che avete visto queste prime uscite. Per noi non esistono né amichevoli né partite di seconda importanza o di prioritaria importanza. Tutte le partite hanno la stessa valenza, chi giocherà e per chi giocherà è un'opportunità importante per farsi vedere e soprattutto per dare un senso ai sacrifici e agli sforzi che sta facendo dall'inizio della stagione. Per quanto riguarda i giocatori che potranno essere utilizzati è chiaro che le mie valutazioni sono fatte e saranno figlie della condizione di ognuno di loro perché tre partite in una settimana, per forza di cose se le vogliamo tenere in intensità alte è impossibile riuscire a farle con gli stessi interpreti e quindi sarà per me la formazione migliore per provare a battere il Siena. Mi aspetto un Siena che tanto anche se dovessero giocare coloro che magari in questo momento stanno giocando meno sono giocatori estremamente importanti e quindi è una partita penso con le stesse insidie e le stesse caratteristiche della partita di campionato. Noi non ci vogliamo snaturare per quello che è la nostra mentalità e cercheremo di mettere in campo una forte intensità, una forte aggressività cercando di eliminare quei 3-4 dettagli che per ora ci fanno commettere delle sbavature invece di dare grande continuità al gioco. Questo me lo aspetto e quindi mi aspetto una partita estremamente complicata come è normale che sia.